la cosa più semplice da dire ora qual è? eh ma Turam non fa gol allora innanzitutto io ti ho sempre detto ad oggi sulla carta poi è il campo quello che sentenzia sulla carta ad oggi ora a quest'ora qui ti dico questa squadra è più debole dell'anno scorso ma è il campo che poi ti dà il verdetto io ti dico una cosa rispetto agli attaccanti che l'Inter aveva l'anno scorso quest'anno puoi contare su quattro mentre l'anno scorso potevi contare su tre con il ballerino con Correa e ad un certo punto della stagione non per un mese o due ma per circa sei mesi hai potuto contare su Geco e Lautaro Martinez che hanno portato avanti la baracca quindi già a livello numerico puoi contare su quattro attaccanti la cosa che ora Turam non segna, Turam non tira in porta e quindi per ora non è un problema gliele vogliamo dare dieci partite di tempo a Turam per ora non è un problema se non segna perché ha già incominciato a far segnare ad entrare in tutti i gol fa gli assist prende prende punizioni prende le punizioni cosa importante prende molte più punizioni di Geco se ci fai caso fa l'elastico viene giù dà una mano riesplode subito in aria perché è veloce e reattivo ti dà fisicità fa sportellate quindi cosa vogliamo di più vogliamo dare un po' di tempo a questo ragazzo oppure no oppure già avrebbe dovuto fare 20 gol Turam tra l'altro Turam lo hai preso a zero ricordatelo bene Turam lo hai preso a zero quindi è un attaccante esterno che sta studiando da centramanti deve provare a tirare deve imparare a giocare in profondità tutto quello che ti pare gli vogliamo dare 10 partite di tempo campionato nuovo lingua nuova gli vogliamo dare 10 non ti sto dicendo 6 mesi 10 partite gliele vogliamo dare se fra 8 partite non ha fatto gol poi dopo ne ragioniamo va bene così allora ora sento tutti parlare di questo Milan per l'amor di Dio bella squadra gioca bene c'ha dei giovani che hanno gamba che hanno personalità che hanno tecnica ma in Milan attenzione perché ha sempre lo stesso gioco ha quel gioco prevedibile che gli dà Piolino Piolino gli dà un gioco prevedibile e vedrete che appena anche appena le squadre troveranno le squadre avversarie troveranno le giuste distanze vedrete che il Milan diventerà molto meno pericoloso anche perché poi tra l'altro oltre le distanze cioè il Milan ragazzi è un gioco prevedibile parliamoci sinceramente il gioco del Milan è quello lì è un gioco scolastico elementare hanno però un grande giocatore di cui parlai a inizio mercato quando lo stavano trattando che è Pulisic che io Pulisic lo ritengo veramente un grandissimo giocatore che gli crea gli dà quella fantasia e gli crea quella poca imprevedibilità che hanno mentre l'Inter con il gioco e fa l'Inter soprattutto con Cialanoglu al posto di Brozovic aumenta l'imprevedibilità hai meno fase difensiva ma aumenti l'imprevedibilità perché giochi con un giropalla veloce non dai punti di riferimento gli stessi braccetti nel far ripartire l'azione sono imprevedibili quando partono da dietro quindi l'Inter è molto più imprevedibile come squadra ti parlo a livello di gioco per ora per quello che abbiamo visto ora per quello che il campo ha detto ora se ci fai caso però Barella con Brozovic è un giocatore Barella con Cialanoglu dove c'è un giropalla diverso dove ci sono dei movimenti diversi Barella è un altro giocatore perché Barella è un giocatore istintivo è un giocatore comunque a cui non puoi dare più di tanti dettami tattici per come la vedo io perché se lo riempiti di dettami tattici Barella lo limiti come calciatore perché è forte è un calciatore forte ma lo devi lasciare al suo istinto motivo per cui con Conte rispetto all'anno scorso comunque Barella è stato un giocatore importante fondamentale ci mancherebbe ma con Conte lui era di un livello ancora sopra proprio perché aveva modo di giocare nella sua maniera ideale con quei pochissimi dettami tattici che gli dava Parrucca perché Parrucca fa via trama al centrocampo e poi riparte in contropiede con Inzaghi e diverso al centrocampo ecco l'ho visto un po' sotto tono Barella ma non vorrei che mancando Brozovic che aveva un giropalla un po' più lento e aveva modo di far sì che comunque Barella potesse leggere molto meglio trattivamente la partita non vorrei che con Ceylonoglu Barella calasse un po' di rendimento questa è l'unica mia preoccupazione dietro un sontuoso De Vrij ve l'ho detto 3 o 4 mesi fa De Vrij è un grande giocatore ha rinnovato è più tranquillo un sontuoso De Vrij che secondo me per come la vedo io dovrebbe essere titolare ci vediamo più tardi ciao